Siamo a Etna Palace, Santa Maria di Licondia. Questo è il luogo ideale per festeggiare qualsiasi tipo di occasione. Feste di laurea, banchetti, feste iniziali. Senti che calma, che silenzio, che raffinatezza. Che eleganza. Ma grazie alla famiglia Motta, perché i suoi figli hanno fatto proprio, hanno ereditato questo percorso di chef, di grandi chef, infatti si sono specializzate anche alla scuola alberghiera. Etna Palace, prenotate fin da adesso il vostro favoloso cenone di fine anno. Parliamo della cucina. Questa è una cucina di affetti, non di affetti. Dove mi hai portato? Siamo sul parco dell'Etna. Siamo a Etna Palace, Santa Maria di Licondia, dalla famiglia Motta. Eh, cornice straordinaria. Ma senti il silenzio che urla. Questa calma, questa tranquillità. E pensa che si organizzano banchetti, ricevimenti e feste di laurea. E il nostro matrimonio al più presto, Cristina. Etna Palace, in via Cavaliere Bosco 42, Santa Maria di Licodia. Telefono 095 62 92 57 392 93 30 530 Grazie a tutti.